La girella muovessa, la guadrino pure Pronti! Palla in modo che le toccassi in galera Pronto? Capita? Andiamo a vedere Vuoi fare qualche... Giampierre, ma quando po' veni grosso il luccio Questa bisogna linkarla da qualche parte Se lo andiamo nei link di descrizione a tu Mele e cotoni Perché? Pere e cotoni Pere, non mele Mele e cotoni esistono davvero Giampierre, quando po' veni grosso il luccio Perché? E non lo so mica Che bestia voglia esse Che bestia voglia esse Guarda un po' tu Ternano No, Ternano È roba di Terni quella Allora La dica di Fiorenzola è roba di Terni Sì, Fiorenzola è Terni È Umbria, è Umbria Allora, dunque Quindi vado Ciao ragazzi E benvenuti in un nuovo episodio In ritardo Di storie di batteristi Ciao a tutti ragazzi Bentornati Come al solito Marco Il numero uno Il numero uno delle bocciate Del bocciato Come si può dire Bravo Era qua Sto entrando nel personaggio Il numero uno dei bocciati Il numero uno dei bocciati Perfetto E Ci scusiamo con tutti quanti appunto per il ritardo Abbiamo avuto una marea di lavoro No ma Il panico Il panico Quindi Purtroppo ci siamo scordati di registrare la bocciata Ci siamo resi cutto che eravamo ritardo Cioè dopo una settimana Ho detto Ma senti ma l'abbiamo registrato Adesso mancano 15 giorni Poi siamo andati a vedere E con l'aiuto l'abbiamo fatto Metà ottobre Quindi in verità siamo in ritardissimo La giriamo di corsa questa puntata Per cercare di recuperare Sì Dobbiamo fare Il ritardo su tutto Allora E la puntata di oggi Come avevamo Come avevamo preannunciato Preannunciato Vede un italiano Vede un italiano Noi che siamo Nazionalisti Nazionalisti Vede un italiano protagonista E l'italiano è Tulio De Piscopo Grandissimo Il maestro Il maestro Forse il batterista più popolare in Italia In Italia Penso proprio di sì Forse quello più conosciuto Proprio di nome Pure da più tempo Pure come durata della carriera 50 anni di carriera Ma Tulio De Piscopo Se non sbaglio Poi me lo dici meglio te Però comunque Ce l'avrà una settantina d'anni Sì Lui è nato nel 46 Sessa età di Franz Di Ciocio 72 72 Ah Cioè Dell'anno di Franz Di Ciocio Ok E quindi va bene Quindi sì Forse è più conosciuto Pure per la Pure per l'età Nel senso Sì ma poi perché È diventato famoso Non solo come batterista Lui è diventato popolare Anche come cantante Come cantante Yes Andato a Sanremo Sì sì Ne ha fatto ricotte È diventato molto popolare Come Facci caso Facci caso Spessissimo Si dice Gli italiani sono I maestri dell'arte Dell'arrangiarsi Infatti Fare un po' di tutto Un pochino di tutto Un batterista americano Fa il batterista Fa quello Cioè non è che si Invece tu scopri Che il batterista È famoso italiano E quindi ha fatto Una carriera pazzesca Cioè canta Suona Balla Canta Suona Balla Fa tutto Perché gli italiani Siamo fatti così Questo è vero Ci arrangiamo in tutti i modi Allora Vai con la storia Del maestro Tullio De Piscopo È nato a Napoli Dicevano il 46 E lui è figlio di batterista Figlio d'arte Il padre Il padre era batterista Di un'orchestra Di varie orchestre Soprattutto l'orchestra Del San Carlo di Napoli San Carlo di Napoli Che è uno dei teatri Più prestigiosi Più prestigiosi in Italia Bellissimo E anche il suo Purtroppo fu Fratello Maggiore Romeo Che era un batterista Anche lui Morto a soli 21 Morto molto giovane In un incidente stradale Mamma mia De Piscopo Tullio spesso ne parla Perché diceva che lui era Se fosse ancora vivo Sarebbe più bravo Di Tullio De Piscopo Lui sostiene Mio fratello Romeo Era più forte Di me lo dice sempre Ok Quindi è una famiglia Lui è nato Dentro la musica Lui diceva Io sono nato Con le bacchette in mano Nelle interviste Lo diceva Perché lui raccontava La sua Adolescenza In un video link Che voglio consigliare Dopo lo diciamo È un'intervista Che dura un'ora Quindi un programma intero Dedicato solo a Tullio De Piscopo Anche di due anni fa Quindi molto recente E racconta Com'era la sua giornata Tipo nell'adolescenza La giornata a casa sua Iniziava alle 7 e mezza Di mattina Col padre che attaccava Con i rudimenti De rullante Alle 7 e mezza Alle 9 Il padre andava Diceva Usciva di casa A cercare lavoro Diceva Perché in quegli anni Andava a cercare Contratti Concerti da fare Perché non è che c'erano I social network Certo E quindi alle 9 Attaccava il fratello Con i rullanti I rudimenti I timpani Le cose E dopo Quando aveva finito Sia il fratello Che il padre Ci si metteva Tullio Piccolino Alla batteria A strimpellare Un po' Così fino a più o meno Fino ai 13 anni No Fino a 13 anni Già suona Da molto piccoli In alcuni piccoli locali Piccoli club di Napoli Per tutta l'adolescenza Almeno fino a 18 19 anni Poi si rende conto Chiaramente che Napoli Gli va un po' stretta A livello jazzistico Perché lui è Lui ha avuto Un'ambienza jazzistica Esatto A casa sua si ascoltava Quasi solo jazz I dischi erano E' classica Praticamente il padre Essendo direttore d'orchestra Direttore d'orchestra? No direttore Percussionista d'orchestra Ah percussionista d'orchestra No 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 Un direttore E E Quindi Ha stato il classico Ha fatto la classica cosa Che è emigrato In una città In un altro posto Dove c'era un movimento musicale Magari diverso Diverso sì Prima a Torino Per due anni E poi a Milano A Milano infatti Ha trovato Ha cominciato a Ingranare con la carriera La carriera prende un po' più di slancio E soprattutto a Milano Si apre musicalmente Non più solo jazz Ma comincia a suonare Anche in altri contesti Del pop Il blues Più lento Il blues terzinato Lui ne parla spesso Parla spesso di questi colpi Terzinati Lui dice di essere stato un pioniere Perché è stato uno dei primi a Ad accelerare il blues shuffle Non mi ricordo come diceva lui Ad accelerare il timing A mettere la cassa in un certo modo A fare dei pattern in un certo modo È stato uno dei primi in Italia Perché lui ascoltava Il blues E il jazz Che venivano dagli Stati Uniti E lo Lo reinterpretava E quindi è stato uno dei primi A livello nazionale Il primo progetto musicale importante Con cui suona È il Franco Cherry Quartet Ah Il quartetto di jazzistico E poi nel 74 Suona anche nei New Trolls New Trolls Famosa band Degli anni 70 Sempre nel 74 Lo stesso anno Esce il suo primo disco solista Che si chiama Suonando la batteria moderna Ed è una cosa rivoluzionale All'epoca Perché un batterista Che si mette a fare un disco Da solo Da solo Lui Tutto insieme Lui In un'intervista Diceva che L'idea gli era venuta in mente Perché Ogni volta che sentiva un disco O nella stragrande maggioranza Dei casi Sentiva sempre la batteria un po' Più bassa Come si può dire In secondo piano In secondo piano Messa in secondo piano Per un batterista È un oltraggio Questa cosa Non la poteva accettare E quindi ha fatto un disco Cercando di Mettere più in risalto La batteria Rispetto agli altri strumenti Adesso magari Può non essere Una grande trovata Ma negli anni 70 È stato un precursore Ma sì Anche perché appunto In quell'epoca C'era molta più In Italia Sì La batteria Cominciava a essere presente Come strumento Un po' ovunque Nel senso che In quell'epoca C'erano grandi band Metà anni 70 Metà anni 70 C'erano già grandi band C'era la BFM La BFM eccetera Quindi funziona Però Diciamo Ancora si viveva In uno strascico In Italia soprattutto Di musica classica Capito come Cioè Questo avvento del moderno Del prog Eccetera È arrivato Per carità di Dio Ma Di lì a dire La batteria è Principale Insomma Ce ne vuole È ancora considerato Un strumento di accompagnamento Quasi solamente di accompagnamento Chi lo è poi Nel senso che Che è uno strumento Di accompagnamento Però Diciamo che Non gli veniva attribuita L'importanza Che gli viene data adesso Sì Sì Giusto Cercavo quelle parole A livello di sound Soprattutto Perché adesso Se ci fai caso Se ti sentono i dischi Vecchia maniera Non magari Di quelle band Diciamo Dischi di musica leggera Cioè La batteria è sempre Molto dietro 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 Ma proprio Tanto dietro Non ha Se tu ascolti Anche probabilmente Questa cosa È una cosa dovuta Ai mezzi Con i quali Venivano registrati Gli strumenti 40 anni fa 50 anni fa Erano La potenza Proprio del suono Che veniva catturato Il livello di mix L'equalizzazione Di una batteria Erano completamente diversi Da come si sentono adesso Adesso Stanno queste batterie Nei dischi Che Perfetto Ti aprono il cervello La botta Patta Capito come È un front La sentivano fisicamente La batteria Sì sì Anche perché Ti fa una Se ben microfonata Proprio con tutto In fase Eccetera Eccetera Che poi Ne stiamo parlando Spesso di queste cose Microfonato Fase Perché adesso È uscito il videocorso Come microfonare La batteria Di come si registrava La batteria Siamo in tema Quindi in verità Se ne parla spesso In questi giorni Sul forum di Drumstart Su Facebook E il fatto è che Adesso si è arrivati A un livello Di qualità Che lo strumento Proprio lo sente in faccia Cosa che effettivamente All'epoca Non era così Si sentono queste batterie Un po' lontane Un po' poco definite Se vogliamo Poco definite E quindi Lui giustamente Si ha fatto Ma perché Io sono un battery Voglio fare un disco Dove io sono Protagonista Con la batteria Che non è E comunque Ci vogliono le palle Per fare questa cosa Anche molto coraggioso Ma infatti Lui ne parla Sempre bene Di questo disco Per lui è stata Una trovata Azzeccata E il tempo Gli ha dato ragione Ah beh certo Assolutamente Lui farà anche Ha fatto vari dischi Solisti Ne ha fatti Quasi una decina Quindi parecchi Ed è una rarità Nel mondo Per un batterista È difficile Che condizioni Così tanti dischi Da solo Come solista Non ce ne sono Molti Che hanno fatto Queste cose E poi come al solito Noi Che siamo Degli esterofili Stiamo sempre a vedere All'estero Chi c'è Che fa queste cose E poi quando invece Magari L'abbiamo in casa Anche in Italia Peraltro A me capitò Quando avevo Circa 18 anni Di fare una cosa Stranissima Praticamente Venne fatta Ma una cosa Veramente Guarda ne parlo Ma chissà Se qualcuno Delle persone Che ci ascolta Magari Che è un po' più grande Se la ricorda Io quando avevo 18 anni Entrai in un Tributo Che si chiamava Le strane felci E questi Praticamente Avevano Intenzione Poi non so Se poi ci sono Riusciti Perché io dopo un po' di tempo Poi lasciai Perché stavo Studiando in conservatorio Ero impegnatissimo All'epoca Però praticamente Che cosa successe Che questi qui Avevano In mente Di riproporre Tutto quanto Una specie Di concept album Dove cantava Renato Zero Agli albori E C'era Tullio De Piscopo La batteria Da pischello Proprio Cioè Quando Tullio De Piscopo Fece questa cosa Tipo C'era 18 anni Si e no E questo progetto Si chiamava Orfeo 9 E io Le strane felci Che era Una frase Di una delle canzoni Questo gruppo Aveva preso Questa frase Per dire Noi siamo Le strane felci Che siamo Un tributo Orfeo 9 Che era Orfeo 9 Che era questa storia Di Questo gruppo Con Renato Zero Giovanissimo E Tullio De Piscopo Giovanissimo Una specie di musical Era Capito come Anche mezzo recitato Tra virgolette E c'è un video Che lo mettiamo Nella Nella Lo mettiamo C'è un video Si vede Renato Zero Da ragazzino Praticamente Si vede Tullio De Piscopo Che suonava la batteria E ci sta Una specie di piccolo documentario Dove Stotito Schipa Che era il compositore Io non ho mai conosciuto Ovviamente Di persona Però Dovrebbe essere vivente Ancora 15 anni fa Era vivente E praticamente Suonavo sta cosa E io Porca miseria Quando mi detti Tu calcola Io ero all'inizio Il conservatorio Da poco Tutti i tempi dispari Cioè Era tu Prog a stecca Era prog Ma era prog Proprio Cinque quarti Nove quarti Cinque ottavi In una riga In una riga Neanche in un brano In una canzone Io mi ricordo Sto cose C'ho ancora Da qualche parte Gli spartiti Trascritti a mano Da me Che all'epoca Non utilizzavo Sibelius No c'erano Qualche C'erano Non così Come adesso E Le strane Per far capire Questo Adesso mi è venuta in mente Questa cosa Tu pensa Quanto era Un precursore Cioè lui faceva All'epoca Quando anche Renato Zero Era un bambino Facevano sta roba Che era d'avanguardia In verità All'epoca Prog Così Tipo musical Concept Cioè Porca miseria E se senti le canzoni E quindi Le voglio postare Le metto dentro la playlist Faccio la playlist Io non l'ho visto questa cosa No ma non te l'ho neanche detto Adesso parlandone Mi è venuto in mente Perché tu mi hai detto Cioè abbiamo detto Tullio De Piscopo Poi Milano E poi mi è cominciato a venire in mente Tito Schiccio Ho ricostruito Io suonai 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 In una Una band che faceva Per un periodo In una cosa Che faceva sta cosa qua Capito come Pazzesco proprio Che gente strana Che gente strana Che hai conosciuto Che hai conosciuto Di tutti i colori Allora Ero rimasto A metà degli anni settanta Yes Yes La metà degli anni settanta Gli anni ottanta Sono gli anni più Prolifici Per Tullio De Piscopo Dove lui si apre A collaborare A qualsiasi tipo Di progetto musicale Dall'orchestra Quindi come percussionista Al cantautore A compagna cantautori A compagna band Ok Quindi Musica a tutti i livelli Per farti qualche nome Tra i direttori d'orchestra Potete dire Tony Mims Augusto Martelli Bill Conti Famosissimo Parampà Esatto Eccolo là Parampà Esatto E' proprio lui Quello che ha creato La musica di Rocky Peraltro Di quasi tutti i film La musica di Rocky Bill Conti Bena fatte Sì 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 Ma anche Victor Bach Per esempio Mi viene in mente Per i direttori d'orchestra Per quello che riguarda Gli artisti Ha accompagnato Max Roach Quelli stranieri Gilles Pigato Barbieri Estor Piazzolla Quindi di vari generi musicali Jerry Mulligan Chad Baker Chad Baker Baseria No ma questo Questo ha fatto una carriera Ragazzi Che dispetti No Ho fatti tanti Quincy Jones Tra gli italiani Ha accompagnato Gino Paoli Pino Daniele Pino Daniele C'è un capitolo a parte D'Apile Ah ok Sono molto legati D'oro due Anche perché conterrani Sono di Napoli Certo Certo Accompagnato Celentano Mina Gino Paoli Enzo Iannacci Ha registrato il disco Rimini di André Pensate Il disco Rimini di André È stato suonato da Tullio De Piscopo E poi Pino Daniele Ha registrato Tre o quattro Non mi ricordo bene Dei dischi con Pino Daniele Giovanissimo I dischi sono Vai Mo Show E Bella Ambriana Ah ok In dialetto napoletano Con dei musicisti Pazzeschi Poi mettiamo sempre Nel link in descrizione Qualche video Vedi dei musicisti Internazionali Stranieri Che Pazzeschi Pino Daniele Giovane Giovane Con capellone Capelli Scuri Panciuto Cantautorato Ai massimi livelli Beh Blues L'anno d'oro L'epoca d'oro Più o meno in quel periodo Quindi siamo Già a cavallo degli anni 80 A metà degli anni 80 Esce un altro Suoriscosolista famoso Di Tullio De Piscopo Che si chiama Acqueviento E poi Mi devo mettere bene E poi lui ha fatto Una canzone Che era Che io me la ricordo Perché si ballava Pure quando ero ragazzino Andamento lento Sì E dell'88 Dell'88 E infatti 84 80 Io me la ricordo Io me la ricordo Sì 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 Ti ricordo Andamento lento In Italia Quella In Italia Quella era Un must E lui canta Ha vinto il festival bar Con questa canzone Nell'88 Ha partecipato a Sanremo È tanta roba Maestro Lei è tanta roba Quella è stata Il più grande merito Secondo me Di questo batterista È che si è fatto Conoscere alla massa Lui ha fatto conoscere La batteria Al pubblico medio Italiano Italiano E la gente Se lo ricorda Se tu gli dici Anche chi non è Magari un grande appassionato Ma un ascoltatore Medio di musica Se tu gli dici Giulio De Piscopo Non lo sa Si sa di chi si parla Se gli dici però Di altri batteristi Magari famosi Italiani Non li conosci No perché Perché anche lì Perché lui vedi Lui ha sfociato poi Avendo lavorato In tanti ambiti musicali Appunto E avendo sfociato poi Nella canzone Che ti è messo a cantare Autorato Quella cosa lì Ti dà una visibilità Che è pazzesca E comunque Io parlo ogni tanto Con delle persone Mi chiedono Ah ma Batteristi italiani Io dico Giulio De Piscopo Ah il cantante Cioè molti Tanti addirittura Chi è più Chi conosce meno Lo confonde anche Con il cantante Chi lo conosce di meno Lo conosce come cantante Addirittura Stamente famosa Quella canzone Che comunque Capito Ma poi ne ha fatte altre Famose tipo E fatte sword Che è una canzone Si 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 da Canta Titoli in dialetto Come Pino Daniele Si 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 Ce ne sono varie Caio Bajon Non mi ricordo bene Le mettiamo Le mettiamo Nei link Nella playlist Che mettiamo In descrizione Un'altra cosa interessante Che volevo Volevo dire In questo video Mi ha molto Incursito Sentire La risposta Che lui Ha dato A una particolare Domanda Che gli hanno fatto In un'intervista Dice Le differenze In studio Di registrazione Tra gli anni Degli anni Settanta Rispetto a quelli Del 2000 Che ci sono Grosse differenze Lui dice Che Negli anni Sessanta e Settanta Era tutto Un po' più Inquadrato Meno per quello Che riguarda Lo studio Di registrazione Perché c'era Un arrangiatore Che ti dava le parti E tu quelle Devi suonare O il direttore D'orchestra Certo C'era meno spazio Per l'improvvisazione Per la Come si può dire L'improvvisazione Cioè era tutto Più schematico Adesso Molto meno Adesso non c'è più Una figura precisa Del arrangiatore A meno che non stai Con un cantautore Talmente importante Che Che ti danno Una parte precisa Ma negli anni Settanta In studio C'è anche un motivo Tecnico Per il quale Si ragionava così All'epoca Si registrava Sul nastro Sì E oggi si registra Sul computer Quindi Se io a te Hai visto quando registriamo No rifarla Non ti preoccupare Rifarla Rifarla col nastro Non è come Copro Tools Che metti play Stop C'erano più lavoro Da fare Tu devi pensare Che il nastro A parte che Costava I soldi veri E ogni volta Che quello Registra 24 piste Nei casi Il migliore dei casi C'era il nastro Che registrava Su 24 piste E Tu devi pensare Che ogni volta Che tu andavi A riregistrare Una cosa Dovevi prendere Un pezzo di nastro Dove non era stato registrato Oppure ritornare indietro E fare Cioè era un lavoro C'era un addetto Al nastro Che faceva Che lo tagliavano Lo appiccicano Come le pellicole Dei film Quindi In verità In verità Il problema Qual è Che tu Lo studio di registrazione A parte la spesa Dell'affitto Dello studio Delle cose Ma il problema Erano le pizze Dei nastri Perché Tanti musicisti Della vecchia guardia Mi hanno raccontato Che quando si registrava Col nastro A 24 Era un casino Cioè Se sbagliavi Non è che rifare Era semplice Cioè dovevi Cioè Sprecavi il nastro Questa cosa però Poteva spronare i musicisti A fare del loro meglio Subito Infatti qual è la regola Che noi mettiamo qua Che puoi fare massimo Tre take Ma perché Poi te ne vai Perché Sì no ma perché Perché quello Perché a parte che devi imparare A mantenere la concentrazione Eccetera Ma più che altro Ecco Prova di immedesimarti All'epoca com'era Cioè Se sbagliavi Era un problema Del cacchio Perché Perché poi dovevi prendere Un altro nastro E un'altra cosa Cioè si sprecavano materiali Costosissimi Che poi a livello di editing Era un bordello Perché poi Taglia Non era assolutamente Non era assolutamente E aggiungo una cosa Mi hanno raccontato Mi hanno Spesso e volentieri Negli ultimi periodi Un'altra Adesso parlo di una cosa Che sto facendo in questo periodo Che per me È un grande onore fare Sto seguendo il tour Di Patti Pravo No? Quando parlo con lei Con Nicoletta Che mi racconta Quando ha registrato Quel brano È successa questa cosa Lei c'ha 50 anni Di carriera alle spalle Quindi ogni volta Dico Dico Ammazza Certo sto brano Quando l'avete fatto Lei mi dice No noi Questo l'abbiamo fatto così Cioè l'abbiamo registrato Che siamo entrati in sala L'abbiamo suonato Una volta È venuto bene L'abbiamo lasciato Ma Me lo ha detto anche lei A volte si faceva Perché rifarlo Era un casino E quindi evidentemente Tantissima della musica Che è stata fatta In quel periodo Negli anni 70 Così Che se ne registrava Un botto Però comunque L'approccio era Cercare di arrivare Iper preparati Probabilmente Per cercare di sprecare Meno tempo possibile Cioè ti viene bene Ce l'hai Vai registra Capito come In maniera tale Che non sprechi Anche né tempo Né soprattutto soldi Perché all'epoca Registrare col nastri Invece oggi Assolutamente Oggi addirittura Take su take Su take Hai visto il videocorso No faccio vedere Addirittura come volendo Tu puoi mettere a tempo Una cosa fuori tempo Un'altra cosa Che voglio dire Sempre degli anni 80 Nell'86 Partecipa a una famosa Drum battle Con Billy Cobham Con Billy Cobham L'ho vista Con Billy Cobham Andata in onda Su Rai 1 Baudo C'era Vippo nazionale C'era Mettiamo il link In descrizione Perché è da vedere Fortissimo Questi due batteristi Fenomenali Indietro a questi kit Enormi C'hanno tutti Due kit enormi Due kit identici Almeno i fusti Sono gli stessi Stesso numero I piatti Magari qualcuno Ce n'ha un po' di più Un po' di meno Ma è una figata Pazzesca Che poi Tu l'idebiscopo Se non sbaglio C'è stato un periodo Che non mi ricordo Se con un disco Forse proprio quel disco Suonare la batteria moderna Oppure con un metodo Di batteria Uscì Che aveva una Se non sbaglio La hip percussion Che era un modello Che era un modello Che era un modello di batteria Che all'epoca Sembrava l'astronave Che addirittura Era montata Su una specie Di trespolo Cioè le ruote Sì perché praticamente Sta batteria È talmente grossa Era talmente enorme Conveniva portarla Che c'aveva Cioè loro Te la vendevano Con tutta una serie Un rack Praticamente Con delle ruote Che tu la muovevi Con le ruote Tutta quanta Perché era immovibile Cioè era una cosa Era una specie E lui Se non sbaglio Uscì Questa è una cosa Che mi raccontò Poi il mio maestro Perché lui ovviamente L'aveva vista Questa cosa all'epoca E lui uscì Non mi ricordo Se era un disco O un metodo Di batteria Dove c'era Ma a me sembra Un metodo di batteria Dove c'era Sta foto Della batteria gigante Con lui dietro Capito come così E era Era avveniristica Come cosa Ok Quindi effettivamente Era Una grande novità Era qualcosa Di molto nuovo Sì sicuramente Lui ha fatto anche Colonna senore di film Il più famoso Mi manda picone Nel film Mi manda picone Ma anche Razza selvaggia Il film Razza selvaggia E un altro film Che era L'arma Sì l'arma E quindi anche Autore Mostrando anche Una grossa apertura mentale Un batterista Che si mette a fare Musica Ma sai Ancora una volta Ancora una volta Parliamo Che questa gente Che Per carità Anche tecnicamente Però è gente Che dà valore Alla musica E quindi Poi alla fine Quando fai musica Fai musica La musica è tutto Può essere la colonna sonora Può essere la cosa Cioè in verità È quel Quel modo Di approcciare Dove Non dai tanto Come si tende a fare Un po' oggi E a me non mi piace Tanto questa cosa Francamente Che si dà Tantissima importanza Solo alla tecnica Cioè solo a sta cosa Cioè il batterista bravo È quello che fa Il video Con più visualizzazioni Perché lanciava Tecnicismi Esasperati Perché mentre suona Prende i salmoni al volo Che salgono Il fiume Non lo guarderei anch'io Un video così Il batterista Che sta sull'orlo Di una cascata Dove risalgono i salmoni E mentre suona Li acchiappa al volo Si vanno a riprodurre Capito C'è una cosa Però è così Però è così Se tu ci fai caso Adesso vanno tantissimo I video Di Pischelle Strafiche Mezze nude Che suonano Milioni di video Credo di aver capito Vabbè Quella Nella maggior parte dei casi Vedo che si dà Molta importanza All'aspetto tecnico E pochissimo A quello musicale Invece Toglio De Piscopo Ancora una volta Ci dimostra Come tutti i batteristi Che abbiamo analizzato Precedentemente Che La cosa più importante Non è la tecnica A fine a se stessa Ma è la tecnica Al servizio La musica Sempre lì Torniamo sempre lì Andando avanti Siamo negli anni 90 Lui continua Negli anni 90 Cosa? La gallina La campa Lasciala Cantare Ma io che te sto pure appresso Vabbè Tu che mi dai renta Non mi ha fatto deconcentrare Negli anni 90 Continua a fare musica A tutti i livelli Ok Canta autorale Band Direttori d'orchestra Colonne sonore Nel 2000 Nel 2000 Partecipa a numerosi concerti Di beneficenza Per l'UNICEF Pari associazioni Per la difesa Dei diritti delle donne Quindi attivo anche sul panorama Sociale Vince numerosi premi Tra gli anni 90 e 2000 Il suo valore viene finalmente riconosciuto Vince numerosi premi musicali Poi una data importante Che mi viene in mente Era il 2008 Nel 2008 Torna a suonare Con Pino Daniele Dopo 30 anni di distanza Dalli dischi Che aveva fatto Con gli stessi musicisti Con cui aveva inciso Quei dischi lì Ma se non sbaglio Addirittura Ha fece un concerto Allo stadio olimpico Sì ma sicuramente Ha fatto Eh sì perché Nel 2013 C'è stato il tour mondiale Ha fatto il tour mondiale Con Pino Daniele Poco prima della scomparcia Poco dopo Pino Daniele Se n'è andato E allora Forse il 2013 sarà stato Perché ha fatto un tour mondiale Con Pino Daniele Io mi ricordo Sta cosa Che non so se era nel 2008 O nel 2013 Ma mi ricordo Quest'evento Che io ci dovevo andare E poi non ci sono potuto andare A Roma Allo stadio olimpico E ci stavano De Piscopo alla batteria Tony Esposito Alle percussioni Sì sì Cioè praticamente Aveva rimesso Tutto Aveva rimesso Tutto il gruppo Di Pino Daniele Vecchia maniera Sì sì Quindi capito Cioè Sto tour micidiale Lui aveva rimesso Insieme Tutta la band Vecchia maniera Sì Tutti i membri storici E io ci dovevo andare Poi non mi ricordo Per quale motivo Poi alla fine Non ci sono più andato Però era Era lo stadio olimpico A Roma Ma era C'era il pienone Sì sì Ma erano musicisti Fenomenali Ti dicevo Nel 2010 Andando un po' quasi Ai giorni nostri Sì 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 Fa uscire un suo Doppio disco Che si chiama Questa è la storia Doppio cd E in uno di questi cd Reinterpreta Delle vecchie canzoni famose Jazz Blues E anche dei pezzi Di musica classica Tipo Requiem divertire Interpreta E Carmina Burana Carmina Burini Sono molto curioso Non l'ho ancora sentito Sono molto curioso Di sentire Lo devo sentire Ma neanche io Che la Carmina Burana Cioè che ci fai Cosa puoi fare Ammazza Cioè talmente tante cose Che non Non so proprio Da dove Bisogna ascoltarselo Da dove partire Bisogna ascoltarselo Bisogna ascoltarselo Quindi Compiti a casa Ascoltiamo Questo Doppio cd Si 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 Diciamo nel 2013 Questo tour mondiale Nello stesso anno Esce anche Il libro Della sua vita Un libro biografico Che si chiama Tempo La mia vita Semplicemente Il libro che parla Della vita di Julio De Piscopo Figo E siamo arrivati A Giorni nostri Insomma Lui ancora suona In vari progetti Jazzistici Soprattutto Soprattutto Di musica jazz C'ha i suoi bei 72 anni Valla grande Valla grande Fortissimo Oh Parlare di setup Anche se è una cosa Che noi sorvoliamo Cioè Sulla quale non facciamo Troppissima attenzione Quando raccontiamo La storia Però Io sul setup Sono andato Un po' in difficoltà Perché la sostanza Più che difficoltà Non è che ci sia Molto da dire Come si trova Sono Ho visto Tantissimi video Per vedere Per studiare Julio De Piscopo Ogni video C'ha un kit diverso C'ha fusti diversi Piatti diversi Una volta di più Una volta di meno Dipende da quello Che gli serve E dal genere Che suona Quindi parlare Di un kit specifico Non serve Non è un kit Riconoscibile Sì appunto Che non è come Quando si siede Dei Wagle Alla batteria Che tu sai Che ha I tom messi in quel modo I piatti messi in quel modo Cioè il kit È sempre quello Eccetera Invece Lui è un altro Di questi batteristi Che a seconda Della situazione Sceglie il setup Suona tutto Come gliela metti Gliela metti La suona La batteria Grande E lui è stato E lui è stato Veramente molto apprezzato Perché è stato Trasversale Lui ha attraversato Tantissime correnti musicali Dagli anni 60 Adesso Riuscendo a prendere Qualcosa Ogni genere musicale L'ha arricchito Lo ha Lo ha migliorato Quindi è stato Trasversale Un batterista Molto scenico Se lo vedevi Negli anni 60 Coppino Daniele Faceva i numeri Sulla batteria Se si rigira La con sedile Era molto Piaceva molto Al pubblico Sì 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 Beh uno showman Uno showman Era una persona In grado Una persona in grado Di catturare L'attenzione del pubblico Cosa che Secondo me È anche più difficile Che suonare Perché Tenere in mano Il pubblico È difficile Cioè Quando sei sul palco La difficoltà vera Degli artisti Non è tanto Quella di fare la Cioè È ovvio Che fare la parte Però è quella Di coinvolgere Il pubblico Capito come E poi alla batteria È abbastanza complicato Perché è vero Che la batteria Mentre la suoni Fa scena di per sé Poi dipende pure Da che musica suoni Però è anche vero Che tu stai fermo Stai seduto Cioè Non è che poi Fakis Cioè Dov'hai Un chitarrista Magari C'ha la possibilità Di camminare sul palco Di andare avanti Indietro Il batterista Sta lì dietro Quindi coinvolgere Il pubblico Facendo Teatro Tra virgolette Dietro la batteria È più difficile È comunque Un chitarrista Un cantante È un bel casino Insomma Quindi Tanto di cappello Porca miseria Massimo Gran maestro De Biscopo Se possiamo Possiamo Consigliamo Qualche link Possiamo Consigliamo Ok Qualche link Allora Innanzitutto Dicevo Questa intervista Molto recente Credo nel 2017 Addirittura Che si chiama Tullio De Biscopo Lecture 2017 Red Bull Music Academy Questo è il nome Su Youtube Su Youtube Vabbè Poi la mettiamo Nella playlist Lui suona Poi a una certa Si scende Dalla batteria Si mette su un divanetto E un intervistatore Gli fa delle domande Poi si rimette a suonare Molto Molto interessante Poi dovete vedere Link Tullio De Biscopo Con meglio le storie tese Grande Che è fantastico Lo dovete vedere Grande Suona insieme proprio Che due batterie Cristian Maier E Tullio De Biscopo Con due batterie Poi Guardatevi Tullio De Biscopo E Billy Cobb L'abbè L'abbiamo detto Dalla battle Chiaramente E un altro Vedete Pino Daniele Tullio De Biscopo Lo accompagna Pino Daniele Ci sono tantissimi video Mettiamo magari Nella playlist Quelli più Interessanti Allora Se posso Il video è Quello che ho scritto Che mi sono segnato io Del 1980 1881 Quindi provate a scrivere Pino Daniele Tullio De Biscopo 1981 Ok E va bene Poi la mettiamo Nella playlist Allora Se Non c'è altro O meglio Ci sarebbe tanto altro Però diciamo Che non andiamo a finire Che facciamo puntate Trove ore Un'ultima cosa Un'ultima cosa Che mi è venuta Adesso Se su youtube Trovate anche dei video In cui parlano Proprio della Hanno fatto un documentario Sulla vita quotidiana Di Tullio De Biscopo Per far capire L'importanza A livello nazionale Che ci aveva Questo musicista In quegli anni Addirittura Una telecamera Lo seguiva Ci hanno fatto quasi Un reali Un precursore Di reality show La vita quotidiana Di Tullio De Biscopo Cosa che penso Non credo Qualcun batterista In Italia Abbia avuto Una cosa del genere Non credo Che io sappia Un documentario Sulla sua vita No Non ho mai sentito Se trovano le parti Su youtube Ma lui è famoso E famoso tanto Allora Zio Io Non so come Ringraziarti Questo è quanto Ce l'ho in verità In modo per ringraziarti Apri l'occhio Non lo sapevo Apri l'occhio Tu Grazie 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 Allora facciamo così Ricordo a tutti quanti Gli amici Che ci stanno seguendo Che Se avete altre informazioni Volete approfondire L'argomento Ci siamo scordati Qualcosa di veramente importante Se avete domande O dubbi Domande, dubbi Cenni storici Scrivetecelo Nei commenti Vi ricordo che Sul sito Dramstart.com Tra le risorse gratuite Trovate anche il podcast Di queste puntate Di storie di batteristi E siamo arrivati Alla serie 2 Episodio 3 credo Episodio 3 E Su questo podcast E la cosa bella Sul sito È che potete ascoltare L'audio Di quello che abbiamo detto Oggi in questo video E lo potete ascoltare Anche col telefono Con il tablet Però così Però così Vi perdete le nostre Belle facce Problemi vostri Quindi così Poi Ricordo a tutti Che nella descrizione Di questo video Nella prima riga Della descrizione Di questo video Insieme a tutte le altre Informazioni Su Dramstart Sulla scuola Sui corsi online Nei corsi qui a Roma Eccetera Trovate il link Per accedere Alla playlist Dove troverete Tutti i video Di Tullio d'Episcopo Che noi abbiamo citato Più altre cose Che magari Cerchiamo in questi giorni E le aggiungiamo Strada facendo Come Questo vale ovviamente Per tutti gli altri Per tutti gli altri Batteristi Quindi per tutti i batteristi Fino ad oggi Che abbiamo trattato Troverete sotto al video E anche vicino al podcast Un link per accedere Alla playlist Ok Quindi Adesso facciamo L'annuncio Con l'annuncio Visto che Che è successo? No Visto che Oggi Oggi il podcast La puntata Esce con una settimana Di ritardo E quindi siamo Due camafroni Allora Faremo con una settimana D'anticipo La prossima La prossima puntata Che ve lo dico Già da oggi Sarà Jeff Porcaro Ok Perché Proprio lui Perché Perché me sono risentito Un po' di toto E ho detto Va bene Facciamo Jeff Porcaro Capito E quindi Prossima puntata Su Jeff Porcaro Ok E zio Io ti ringrazio Grazie a te È stato un disonore Come al solito E niente Ci vediamo alla prossima Ci vediamo alla prossima Con Jeff Porcaro Ciao a tutti Grazie a te